ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao ciao buongiorno a tutti oggi un video veloce per farvi vedere il più bel bordo che potete fare per copertine e per qualunque altro tipo di lavoro semplicissimo e bellissimo con questa riga allora spesso mi chiedete faccio voglio fare una copertina così cosa che porto che bordo posso fare questo che vi faccio vedere oggi è il bordo che si fa con questo punto cammello cammer stitch in inglese che si fa solo in tubolare quindi va perfettamente bene per bordare qualunque cosa io adesso ve lo faccio vedere su una piastrella singola per fare più in fretta ma ovviamente è perfetto per coperte e copertine e fa questo bordo con questa riga che sembra fatta maglia adesso io ne ho fatti solo due giri o meglio tre però si può fare bello alto è stupendo è facilissimo è veloce e rende bellissimo qualsiasi lavoro cioè abbellisce qualsiasi copertina allora vediamo insieme come si fa si fa semplicemente sulla maglia mezza maglia alta quindi la base del punto è la mezza maglia alta primo giro sarà di mezza maglia alta normale e tutti i giri successivi si fanno in questo modo allora adesso io vedete ho le due asolette normali queste qui dove di solito punteremmo per fare la maglia e poi ne ho una posteriore che è qua una terza queste sono le due e questa qui è quella dietro la terza noi praticamente facciamo semplicemente la mezza maglia alta puntando nel nell'asola nella terza asola quella posteriore qui andiamo a fare il nostro normalissimo punto lasciando perdere le due asolette andando a puntare in questa posteriore eccola qua molto semplice adesso vi faccio vedere anche l'angolo così vediamo anche come fare l'angolo gli angoletti si fanno in un modo particolare in modo che non tirino andiamo sempre a puntare nell'asola nella terza asola questa posteriore fino ad arrivare all'angolo qui ne ho ancora una eccola qua adesso sono arrivata all'angolo all'angolo facciamo una mezza maglia alta questa volta perché c'è una catenella qui nell'angolo vedete che c'è un foro andiamo a lavorare la mezza maglia alta a cavallo della 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 soletta qui fatta con la maglia catenella poi andiamo a fare una oa seconda della vostra mano due catenelle io ne faccio una ma potete vedere voi che sia uno o due vanno bene e poi andiamo a fare sempre nello stesso foro quindi quello con la catena fatto di catenella un'altra mezza maglia alta a cavallo e poi appena adesso abbiamo girato vedete che abbiamo girato appena girato andiamo di nuovo a lavorare nell'asola posteriore nella terza asola lasciando le due davanti e andando in questa terza dietro quindi gli angoli si fanno sempre così e i lati si fanno sempre in questo modo quindi sempre nell'asola posteriore e questo qui è un bordo semplicissimo molto bello da fare molto semplice molto veloce da lavorare che però facendo almeno 4 5 6 giri rende la copertina veramente stupenda eccola qua io adesso appunto vi ho bordato solo una mattonella ma questo si inizia a vedere il risultato questo bordo va bene sempre perché è semplice non è troppo lavorato ma comunque non è neanche troppo troppo insomma troppo banale e fa un effetto maglia che abbellisce qualunque lavoro qualunque copertina qualunque lavoro che ha bisogno di un bordo ci vediamo alla prossima direi con detto tutto ciao e buona domenica grazie a tutti